Battuto in casa da Lodi, loca i Forte dei Marmi per 5-2 dopo aver chiuso in svantaggio anche il primo tempo. Il Forte dei Marmi fallisce quindi il sorpasso in classifica ai danni dei Lombardi che consolidano invece il proprio secondo posto. Assenze importanti in entrambe le squadre, Molina deve fare a meno degli infortunati Gil e Borgo e porta in panchina Francesco Poletti, classe 2005. Bresciani recupera invece Fantozzi a cui è stata ridotta la squadifica ma perde per infortunio Nicolás Barbieri. Le reti dei Forte dei Marmi portano la firma di Cinquini e Ambroso mentre per i Lodi Fernandes Antonioni, ex di turno, ancora Fernandes Bozzetto, Fantozzi. Adesso giovedì le due squadre si ritrovano ancora a Forte dei Marmi per l'incontro valevole per la seconda giornata di Champions League. Scivola il centro giovani calciatori in casa contro il Vercelli che vince per 6-3. Una partita che si era messa male per i ragazzi di Roberto Crudeli che perdono per infortunio Mattia Verona, il portiere, nel riscaldamento. Il suo posto viene preso da Andrea Raffa che non lo fa rimpiangere. Poi a un certo punto della partita il portierino viene espulso e al suo posto entra Alessandro Cardani che era un giocatore di movimento 17 anni che debutta in Serie A1 in una partita davvero concitata. Il centro giovani calciatori era stato in gara per il secondo tempo, poi nel finale è stato superato dalle reti di Tataranni, autore di una doppietta. Nella via Reggio ha segnato Raffaelli una doppietta, autore di una prestazione positiva, però Moiano che aveva segnato un gol non è riuscito a sfruttare un tiro diretto. Quando il centro giovani calciatori avrebbe potuto pareggiare, una sconfitta che pesa in virtù anche degli alti risultati per le squadre che lottano per la salvezza, che avrebbe consentito in caso di risultato positivo della squadra di Mariotti di compiere un passo in avanti per centrare questo obiettivo.